Gli arresti ordinati da Caselli erano assolutamente ingiustificati perché non c'era assolutamente nessuna motivazione valida per mettere in galera della gente dopo 7 mesi dei fatti. Quindi come ha detto anche molto bene il giudice Livio Pipino, questi arresti non sono assolutamente giustificati, da notare che Livio Pipino è un magistrato ed è anche un amico di Caselli, quindi oltretutto ha scritto un libro con Caselli e lui ha ribadito e dimostrato che questi arresti erano per carità legittimi perché si possono fare, ma non erano necessari e quindi averne fatti di questo tipo in tutta Italia colpendo selettivamente un certo numero di persone e non altre era un discorso estremamente provocatorio ed era semplicemente per spaventare l'Italia e per dirgli che bisogna smetterla di contestare il governo Monti. A proposito di questo, se andate a vedere per esempio sul Fatto Quotidiano, oggi c'è proprio un'intervista a Massimo D'Alema, il quale dice che come Copasir si sono preoccupati moltissimo perché c'è in atto un tentativo di eversione interna. Allora, chiaramente questo è il discorso che il governo Monti, come ha detto anche il Presidente della Repubblica, non deve essere contestato, non saranno tollerate delle contestazioni del governo, ha detto Napolitano. Credo che più che nei confronti dei Notava sia un'azione repressiva nei confronti dell'Italia intera e sia un'azione repressiva contro chi non accetta questo stato di cose e chi non accetta questo governo dei tendici. Siccome i Notava erano un po' il segnale, la speranza, il paro in Italia di chi contestava, ovviamente chi si è attaccati ai Notava. Io penso che a questo punto sia negativo continuare a contestare Caselli perché gli facciamo solo pubblicità. Credo che abbiamo fatto più pubblicità noi a Caselli che se avesse potuto andarsi a fare le sue chiacchierate all'interno delle librerie Faltrinelli. Poi io a Caselli una serie di domande a cui sicuramente lui non mi risponderebbe, avrei bisogno di fargliele, ma ci sarà il tempo anche per questo.